Italiani. Chi siamo davvero? Siamo il popolo di artisti, inventori, mecenati, avventurieri e scienziati che ha regalato al mondo il più grande contributo all'umanità di ogni tempo? Oppure siamo il popolo pigro, inetto, diviso e corrotto, che occupa sempre gli ultimi posti delle classifiche sull'innovazione, la libertà di stampa, la stabilità economica, la burocrazia? Che cosa siamo davvero? Siamo il popolo che si stringe intorno al tricolore o quello che lo brucia? Siamo vittime dei pregiudizi verso noi stessi o verso gli altri? Cosa vuol dire essere italiani? La cucina? La moda? Il patrimonio artistico? Cosa ci rende tali? Guardiamoci allo specchio, nella realtà buia di questi giorni, e poniamoci una domanda. Perché siamo italiani? Perché? Perché? Siamo italiani perché un medico e due ingegneri bresciani trasformano una maschera da sub in un respiratore. Siamo italiani perché la valvola per quella maschera la costruisce la beretta, fermando la produzione di pistole. Siamo italiani perché gli alpini sono italiani e con le loro mani costruiscono l'ospedale da campo più grande d'Europa. Siamo italiani perché i camici monouso li cuciono Armani e Calzedonia. Le mascherine le sforano Gucci e Prada. Stilisti che di solito girano in Ferrari, ma oggi no. Perché oggi la Ferrari non sforna più auto, ma respiratori, sotto il cavallo rampante di Maranello. Siamo italiani perché il gel disinfettante lo realizzano Bulgari e Ramazzotti. Siamo italiani perché Carlo Cracco prepara i pasti per gli ospedali di Milano. Siamo italiani perché servono 300 medici volontari e dall'appello rispondono i 1.500. Molti dei quali in pensione, dopo una vita sacrificata in corsia. Siamo italiani perché servono 500 infermieri volontari e all'appello rispondono in 8.000, senza esitazione e senza timore. Siamo italiani perché le librerie consegnano romanzi a domicilio, pizzaioli e pasticceri. Allungano il turno di notte per regalare pane e dolci a medici e sanitari. Perché i fruttivendoli marocchini ammassano casse di frutta gratis per chi passa. Per chi ne ha bisogno, italiani e nonno. Siamo italiani perché i dentisti rinunciano alle mascherine per aiutare i colleghi in prima linea. Siamo italiani perché Giovanni Rana aumenta lo stipendio del 25% ai suoi operai per continuare a produrre il cibo con cui riempire gli scaffali dei supermercati. Siamo italiani perché abbiamo salvato i naufraghi etiopi in mare e la loro comunità non dimentica. E oggi si prende cura dei nostri poveri. Siamo italiani perché un medico eletto sindaco rinuncia alla sua carica per tornare in corsia. Siamo italiani perché i politici inseguono i like, mentre gli influencer costruiscono gli ospedali. Siamo italiani perché siamo parte del problema e parte della soluzione. Ma nel centro della tragedia troviamo la forza, il coraggio e l'inventiva per rimetterci in piedi e tornare a guardare il futuro. Ecco perché siamo italiani. Ma non aspettatevi che gli altri lo capiscano. Hanno costruito la loro ricchezza sui sacrifici e le idee dei nostri connazionali. Ma non possono arrivare a comprendere tutto questo. Perché? Perché? Perché non sono? italiani Perché non sono italiani?